Sul fronte delle concessioni balneari il Consiglio di Stato con le ultime sentenze ha stabilito illegittime le proroghe generalizzate e ha ordinato ai comuni di indire immediatamente gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni scadute il 31 dicembre 2023, questo per effetto della direttiva Bolkistein. La proroga che può essere solo di natura tecnica quindi può essere concessa per consentire il completamento delle procedure di gare comuni che abbiano già avviato o deliberato l'avvio delle gare. Tra questi c'è il Comune di Giulianova che ha deliberato di indire i bandi e chiudere le gare entro il 2024. Sì è un dato ormai che i comuni che hanno provveduto a fare le estensioni tecniche per le gare a seguito di delibera hanno sostanzialmente avviato i bandi e pertanto hanno salvato per quest'anno le concessioni balneari tal quali. Un contesto su cui il COBA, il Consorzio dei Balneari sta lavorando anche con la Regione per definire un bando comune, volto anche ad agevolare il lavoro degli uffici comunali che stanno preparando i bandi. Sì, dato che la data di scadenza ormai è definitiva ed è chiara che è il 31-12 di quest'anno bisogna correre e bisogna che la Regione predisponga un bando tipo da inviare ai comuni costieri e che questi lo recepiscano o comunque lo usino per portare a termine i bandi e quindi chiudere questa annosa questione. Inoltre il COBA chiede chiarimenti sull'indennizzo per chi nell'eventualità perderà la propria concessione balneare e su quali basi verrà calcolato. Fondamentalmente è quello il problema reale perché a patto di andare a gara bisogna sapere chi partecipa, cosa avrà se perde la concessione. In Italia i comuni che stanno avviando le gare stanno andando avanti un po' a macchia di lopardo, ognuno trova il suo modo, il suo metodo e noi ci aspettiamo di avere un metodo che valorizzi l'avviamento delle attività balneari proprio perché sono attività molto anziane, di qualità, offrono servizi alla cittadinanza e quindi vanno valorizzate. Siete preoccupati per il futuro di questa categoria? Siamo preoccupati sì, siamo pronti a legare anche, nel senso che se si fa chiarezza da parte delle amministrazioni locali e nazionali noi siamo pronti a partecipare perché questo è il nostro lavoro, queste sono le nostre capacità e non abbiamo paura di qualcuno che ci viene a fare concorrenza, anzi questo è un motivo per migliorare.